che sia organizzata la possibilità di una nuova resistenza in un'Italia che non si riconosce in quello che sta accadendo. Venite a Riasce, vedete con i vostri occhi che a Riasce c'è la prova ufficiale, oggettiva, che sono state solo menzogne quelle che ci hanno detto. Venite qui e vedrete. Riasce è una città che sta insegnando all'Italia, all'Europa, un nuovo modello di accoglienza. Una città dove l'emigrazione aveva sostanzialmente dissanguato il paese, cioè stava morendo, letteralmente morendo. Ormai erano emigrati tutti, o quasi. Il paese è ripartito, è ripartito con migranti. Tutto è nato dal sogno di Mimo Lucano, questo sindaco che vede un giorno sbarcare, non ancora sindaco, una nave di curdi, di migranti, fino all'anno 90. Da lì nasce questa idea, questo sogno di poter fare dell'accoglienza un sistema. Un sistema che fa ripartire la città e così andava. Le urla che sentite di bambini di ogni nazione, l'accoglienza che è diventata uno strumento per ridare libertà a un territorio, una libertà nata dalla possibilità di curarsi a vicenda. I migranti hanno visto le proprie ferite curate da questa terra che li ha accolti. Una volta il sindaco Lucano ha accolto 100 bambini. Sì, 100 bambini non accompagnati, mentre al nord facevano barricate per otto persone. Li ha accolte con i fondi per l'accoglienza, autosufficienza economica, insomma, ce l'hanno fatta. Le case che sono state date ai migranti da emigranti di Riasce in Argentina, che non tornavano più, le hanno lasciate. Migranti di generazione passata o figli di migranti che hanno dato case a migranti di oggi. Oggi stanno boicottando Riasce. I fondi che sono stati dati, quindi già spesi, di improvviso bloccati. Otto ispezioni fatte ai centri d'accoglienza, mai fatte in centri d'accoglienza evidentemente in mano all'andrangheta. Cosa dirvi a chi mi sta ascoltando? Venite a Riasce, vedete con i vostri occhi. Per metà sono persone nate a Riasce, cresciute a Riasce e per altra metà sono persone rinate a Riasce. Superano le loro contraddizioni, dialogano. È nata una scuola, è nato un asilo. Il lavoro, sì, sta nascendo un nuovo lavoro. E boicottare tutto questo con la scusa, sì, però lo fate con soldi pubblici. Non è vero. Lo si fanno con soldi che sono investimento e che creano lavoro, che creano comunità. Cosa devono fare? I soldi, se non questo. Per cui giù le mani da Riasce. Quando c'è stato un impasse nel modello Riasce, una ragazza, una ragazza nigeriana, andò via da qui, finì in una sorta di bidonvilghetto e morì mentre cercava di riscaldarsi. Se non credete alle mie parole, se credete che io stia esagerando, venite a Riasce. Vedrete un modello da cui tutto deve partire. Qualunque sia in futuro l'Italia che vuole opporsi a questo governo populista, reazionario, che fonda tutto sulla propaganda, io dico che da qua deve ripartire. Che siano organizzati i congressi, che sia organizzata la possibilità di una nuova resistenza in un'Italia che non si riconosce in quello che sta accadendo. Delle parole di Salvini, delle bugie di questo governo. E allora dico bisogna iniziare da Riasce, perché a Riasce c'è la prova ufficiale, oggettiva, che sono state solo menzogne quelle che ci hanno detto. Venite qui e vedrete. Grazie.